Va bene, possiamo cominciare. Primo appuntamento di Podcast for Inclusion, che è un progetto che Shell Radio sta portando avanti insieme a Radio Calone in Francia e a African Media e a Malta, che sono due organizzazioni che come noi lavorano un po' sul tema del giornalismo fatto dal basso. Radio Calone è molto simile a Shell Radio come esperienza, lavorano tanto con i ragazzi in periferia. Cominciamo questa serie di incontri pubblici che fanno parte anche di un percorso invece con un numero di iscritti chiuso. Cominciamo con Danilo De Biasio che è un punto di riferimento per noi comunque nel mondo del giornalismo radiofonico con un'esperienza lunghissima. È stato direttore di Radio Popolare, è il momento presidente della Fondazione Diritti Umani e dirige il Festival dei Diritti Umani da quando lo si fa a Milano fondamentalmente. Con Danilo abbiamo collaborato proprio sul Festival che è stata l'occasione in cui ci siamo conosciuti e è ancora un percorso molto bello, molto ricco. Aggiungo giusto un'altra cosa che è un po' fuori tema, però avete trovato sulle sedie un volantino della crowdfunding che stiamo portando avanti, crowdfunding civico, quindi se arriviamo al 40% della cifra totale che dobbiamo raggiungere, il restante 60% lo mette il comune di Milano e l'obiettivo è allestire 4 cargo bike con impianto audio, pannelli solari, pedalata assistita da mettere tra l'altro una proprio qui, una all'isola da share radio, una in stadera e un'altra a bisceglie al ciclo hub di comunità nuova. L'idea è che queste cargo siano a disposizione di chi vuole fare cose in città, per cui dalla festa alla conferenza al cinemino al compleanno vale tutto, al trasloco perché no, comunque è un mezzo di trasporto che ci permette di spostare anche pesi e per cui l'invito sia a voi che a chi ci ascolta o ci ascolterà online a partecipare al crowdfunding, aiutarci a raggiungere l'obiettivo. L'elettricità avviene attraverso la pedalata? L'elettricità, diciamo che, no, la cargo ha un suo motore e una sua batteria e il pannello solare servirà a ricaricare audio e batteria della pedalata. Per cui basta, dopo questo spot credo di poter lasciare la parola a Danilo, se i tecnici mi danno conferma che siamo online. Quasi Allora mi dilungo un po' io così non tagliamo Danilo Allora adesso facciamo così, diamo la parola a Danilo e vengo a smanettare Va bene. Grazie Danilo di essere qua con noi e grazie anche a voi di essere arrivate. Ah, vado con questo? No, c'ho già questo. Quale devo usare? Tutte e due? Vado? Mi sentite? Sì, vedete, siamo a un metro di distanza. Quindi questo lo spengo? Sì, va bene. Direi di sì, grazie. Grazie a voi di essere qui presenti perché lo dico per chi ci sta sentendo fuori onda prima di questa chiacchierata ho parlato con alcuni di voi e devo dire che forse sarebbe quasi più interessante che voi veniste al mio posto a raccontare quello che volete fare. Io non ho ancora capito bene, lo dico a Shell Radio, se poi alla fine rispetterò non le priorità diciamo così desiderata di voi che siete qui presenti perché mi hanno detto fai una lezione su radio e diritti partendo da, diciamo così, le basi del giornalismo radiofonico che è una cosa un filino diversa dal podcast che oramai è un termine molto di moda ma che è, diciamo così, il primo mattone da cui partire quindi probabilmente quello che vi dirò potrà essere utile. Allora, dico subito che a sorpresa vi farò fare anche degli esercizi, quindi preparatevi e se vi vergognate un po', non so, mettetevi un cappello in testa che vi copra completamente. Allora, radio e diritti. Radio e diritti in realtà si sono sposati molti anni fa, probabilmente alla nascita della radio, che indicativamente è un secolo fa, più o meno, primi anni del novecento. A volte naturalmente come tutte le coppie litigano, no? Ma spesso quando scatta la scintilla riescono a fare grandi cose. Riescono a fare grandi cose a volte nel bene e a volte anche però nel male. Attenzione, eh? Radio e diritti, quindi magari su questo ci soffermiamo un po'. Perché? Perché se ci pensate la radio nasce come mezzo democratico. Perché? Beh, se tornate indietro di un secolo, parlo dell'Italia in questo momento ma credo che la situazione nel resto del mondo fosse abbastanza simile, quindi sempre, diciamo così, i primi anni del novecento, quando la radio cominciava a muovere i primi passi, beh, in Italia pensate che c'erano 9 analfabeti su 10. Cioè c'erano 9 persone su 10 che non sapevano né leggere né scrivere. Perché dico che la radio è un mezzo democratico? Perché non c'è bisogno di saper né leggere né scrivere per ascoltare la radio e avere quindi le informazioni. Quindi questo è un elemento estremamente interessante. Quindi, se vogliamo introdurre un primo elemento, no, di legame tra radio e diritti, la radio ha cominciato proprio rispettando, anzi in qualche modo dando ancora più risalto al diritto all'istruzione. pensate che, io adesso non voglio farvi una lezione di storia, ma molte delle trasmissioni radiofoniche, anche quelle durante il ventennio fascista, in Italia sto parlando in particolare, avevano effettivamente un mandato educativo. Certo, era educativo rispetto a quell'idea lì. Ma il fatto che la radio potesse raggiungere posti molto lontani e dare delle informazioni molto utili a tutti, in modo semplice, questo era assolutamente permesso. Ma la radio, appunto, come dicevo, ha avuto anche una, diciamo così, è stato un pessimo soggetto esattamente in quel periodo di cui stiamo parlando, cioè, diciamo così, dell'epoca dei totalitarismi, per essere più preciso. L'esempio più conosciuto è quello della propaganda nazista. Mi fermo subito, se avete delle domande, dubbi o contestazioni, naturalmente, alzate la mano e credo che magari dovrò forse ripetere quello che dicono loro perché non sentono, giusto, nella diretta, Nicola, se fanno le domande loro le devono ripetere lì. Va bene, d'accordo. Quindi, ecco, in caso c'è il microfono in mano. Allora, dicevamo, era un soggetto, era un pessimo soggetto la radio in quel periodo lì. Perché? Perché la radio è il mezzo di comunicazione forse più adatto alla propaganda. Cosa si intende per propaganda? Allora, proviamo a immaginare un secondo proprio la radio nella sua funzione, quella classica, vi permetto di dire, dei vostri genitori, perché probabilmente voi siete già nel mondo podcast, nel mondo digitale. La radio dei nostri genitori era quella con la manopolona, tu la dovevi ascoltare, ti potevi spostare di frequenza, eccetera, eccetera. Quindi è un mezzo democratico, come dicevamo, che può raggiungere posti molto lontani. Perché? Perché dal punto di vista tecnico è facile. Cioè, basta un'antenna, un po' di potenza e tu raggiungi anche luoghi molto, molto lontani e non ha bisogno di grandi attrezzature, come invece ha la televisione, perché la televisione deve proiettare invece delle immagini. Quindi, tecnicamente, ha bisogno di un pacchetto di dati molto più pesante e quindi ha bisogno di molta più potenza per poterlo trasmettere. La radio si presta alla ripetizione dei messaggi. Non a caso le sopopera nascono con la radio, non nascono con la televisione, poi diventano, no, fenomeni televisivi. Le sopopera, lo dico perché uno mi ha guardato con gli occhi così, che cazzo stai dicendo? Allora, le serie televisive. Le serie televisive una volta si chiamavano sopopera, perché il principale sponsor di queste trasmissioni che si ripetevano nel tempo era una famosa marca di saponi negli Stati Uniti e da lì si sono chiamate sopopera, ok? Niente di male, cioè niente di particolarmente strampalato. Si presta alla ripetizione, perché? Perché hai un palinsesto da riempire e dunque tu, no, ti fa gioco avere delle trasmissioni che si ripetono nel corso del tempo. Ma è anche molto facile perché tutto sommato la radio, lo dico in modo un po' semplicistico, è un microfono dove tu ti metti, te lo metti davanti, come in questo caso quello che sto usando io, e parli. E cosa dici? Eh beh, la propaganda individua sostanzialmente un nemico interno, nel caso del nazismo furono gli ebrei naturalmente, un nemico esterno, nel caso dei nazisti era l'Unione Sovietica, no? Anche perché, non solo perché lì c'era stata la rivoluzione comunista, ma anche perché, ricordatevi che il nazismo è nato, è andato al potere, chiedo scusa, è andato al potere una quindicina d'anni dopo la grande sconfitta che la Germania aveva avuto nella prima guerra mondiale, quindi quello, proprio la Russia, era il nemico, a tutti gli effetti. La propaganda è un leader, possibilmente populista, che viene indicato come quello che può risolvere i problemi, può sconfiggere sia il nemico interno sia il nemico esterno. Se voi ci pensate un secondo, questo meccanismo banale è facilissimo da ripetere in ogni occasione, o viene dappertutto, ok? Ed è uno schema così semplice, io qui chiedo se i tecnici sono già in grado di farmi sentire il primo file, siamo in grado di far sentire il primo file, quello che si intitola Radio Mille Colline, adesso un secondo solo, perché è probabilmente l'esempio peggiore, mi verrebbe da dire, è moderno, di cos'è stata la propaganda. Allora, un secondo solo. Radio Mille Colline ce l'abbiamo? Ce l'avete sotto mano? Ok, sì, un attimo solo. Come si riempie il buco quando si fa radio? Si racconta una barzelletta di solito, oppure si mette la musica? Io non c'ho né la barzelletta né la musica, sono nel panico e adesso parte. Un attimo solo ancora. Si sentirà male, lo dico subito. Un attimo solo. Io possiamo sfumare pure, perché era giusto, tanto non lo conoscete il dialetto degli utu e quindi è difficile. La cosa importantissima però di questo frammento di radio è che questo è un frammento originale. Stiamo parlando del Ruanda, 1994, sì, 1994, in 100 giorni sono state uccise probabilmente tra i 500 mila e un milione di persone. Non so se vi rendete conto. In 100 giorni dai 500 mila a un milione. Non si saprà mai la cifra precisa perché oramai molti resti ovviamente non ci sono più. Cosa successe? Successe che la maggior parte delle vittime erano Tuzzi, che erano una minoranza all'interno del Ruanda, indicativamente il 20% circa della popolazione del paese africano. I massacratori erano invece sia parti dell'esercito, sia milizie, sia letteralmente i vicini di casa. Tuzzi, che sono la maggioranza... Utu, chiedo scusa. Che sono la maggioranza... Dio mio! La maggioranza del paese. Che è il contatto? Non so se sono... spero di non essere stato io. La maggioranza del paese. Ebbene, un ruolo fondamentale nel massacro ebbe questa radio, che si chiamava Radio delle Mille Colline, e quella musichetta che avete, questo corretto che avete sentito, diceva, invitava le persone a schiacciare gli scarafaggi. In questo caso, gli scarafaggi, ovviamente, erano i Tuzzi. Ok? Quindi, se voi siete interessati al tema, c'è un bellissimo lavoro fatto da Milo Rau. Forse qualcuno di voi l'avrà sentito nominare. È un regista, attore, che ha fatto questo lavoro proprio esplicitamente. È un'intera opera teatrale che si svolge all'interno dello studio radiofonico di Radio Mille Colline. È una cosa che ti lascia proprio... ti fa ribollire il sangue. Quindi, ritornando, no, per fare un piccolo riassunto. La radio, nata come un elemento estremamente democratico a favore dei diritti in qualche modo, diventa invece un fantastico, nel senso perfetto, meccanismo di propaganda che fino quasi ai giorni nostri arriva a fare, diciamo così, ad aiutare a compiere massacri di queste dimensioni. Ovviamente il genocidio di cui stiamo parlando non è minimamente paragonabile. Io ho sempre un po' paura a fare i paragoni su eventi storici a nessun'altra trasmissione radiofonica, neppure alle trasmissioni radiofoniche che, per esempio, negli Stati Uniti, nel periodo Trump, hanno, no, ineggiato all'odio o alle fake news e cose del genere. Però, se ci pensate un secondo, il meccanismo, come dicevamo, è molto simile a quello che abbiamo descritto prima. C'è un uso strumentale, cioè delle bugie. Attenzione, non è un errore. Io posso dire una cosa non vera, ma se strumentalmente dico una bugia che serve per incolpare, indicare una persona in particolare o una categoria di persone in particolare, naturalmente io faccio qualche cosa di estremamente più pericoloso. Ed è per questo che occorre utilizzare molta attenzione sul linguaggio che viene usato. Noi dovremmo fare veramente un piccolo, come dire, scusatemi, non mi viene un altro termine, un esame di coscienza ogni volta che utilizziamo un verbo piuttosto che un altro, o facciamo una battuta piuttosto che un'altra, perché noi non sappiamo chi abbiamo di fronte e qual è la sensibilità che abbiamo con le persone che in questo momento ci stanno ascoltando. Ma occorre fare, per esempio, anche molta attenzione sui montaggi, visto che voi farete i podcast. Io non ho degli esempi da farvi ascoltare, però proviamo a immaginare semplicemente, noi io voglio raccontare una periferia, cioè il radio racconta tanto le periferie, no? Io voglio raccontare una periferia di una città, di Milano, e io per esempio per radio faccio un'intervista a, che ne so io, a una persona che viene dal Libano, dal Marocco, perché voglio parlare dei problemi dell'immigrazione. Se io poi nel montaggio, una volta, come dire, fatta questa registrazione, ci metto in sottofondo il rumore del mercato, dove magari ho fatto questa intervista, oppure lo monto sopra artificialmente, è un'immagine radiofonica di una conversazione che avviene normalmente. Provate ad immaginare se ha lo stesso effetto se nel montaggio che io faccio, e poi dopo ci metto sopra, per esempio, ci metto sopra o sotto, a secondo dei punti di vista, il canto del Muetzin. E beh, quell'intervista che sto facendo a questo signore arabo, probabilmente, ah, guarda qui il Muetzin, stanno arrivando con il minareto più alto della nostra campanile, ah, qui bisogna stare attenti. Ci vuole poco. L'intervista è la stessa, il montaggio fa cambiare il linguaggio, e quindi anche il messaggio che tu, in qualche modo, vuoi dare. Cioè, il montaggio, in qualche modo, dà una versione falsata dei fatti, la strumentalizza. L'altro elemento su cui bisogna stare attenti, non capita naturalmente nei podcast, ma nelle trasmissioni radiofoniche, invece, sì che accade, è l'uso strumentale che si fa delle telefonate. Potrei intrattenervi ore su come si usano le telefonate o i messaggi in questo momento, perché naturalmente in epoca social le telefonate non hanno più quel ruolo così rilevante che avevano un tempo. Adesso contano molto anche i messaggi. E tutti voi sapete, non c'è bisogno che ve lo dica io, di quanto i messaggi dipendono molto anche dagli algoritmi che tu, che tu, scusa, che gli strumenti Facebook piuttosto che altri, utilizzano. E quindi anche quelli servono, le telefonate servono a confermare dei valori e dei messaggi che tu vuoi far passare. La trasmissione che rappresenta il male assoluto è la zanzara di Radio 24. Dove, siamo in diretta? Lo diciamo? La parte peggiore non è Cruciani, ma l'altro. Perché è la foglia di fico di un'operazione ideologica pericolosissima. Io vi vorrei far sentire, se possibile, un pezzetto. È una trasmissione, vado a memoria, perché io l'ho usata per un convegno che avevo fatto, credo, addirittura nel 2017. Però vale la pena di sentirla, se riusciamo. No, non solo li difende, ma pensa che i camionisti siano tutti ignoranti. Ma che stai scherzo? Ignoranti, spesso, spesso maneschi, spesso maneschi sessisti. Se li vedi, se li vedi nella campanella. Lo hai detto prima, me l'hai detto. Ma non l'ho detto niente, ma è diffamazione belle e buona. E neanche Dio Cristo lo sa dove prendono i soldi sta gente a rubare. Spartak, dove lavori di solito Spartak? Io lavoro in tutto Nord Italia, portiamo generi alimentari per tutte le grandi marche. Senti, amico mio, ma io ritorno ogni tanto quando qualcuno mi dà retta, quando qualcuno mi segue in queste mie lucubrazioni, in questi miei pensieri, e ritorno sempre sulla solita questione delle piazzole rom. Delle piazzole rom, adesso ho i rom in testa, le piazzole rom. Delle piazzole dove i gay andrebbero a disturbare, tra virgolette, i camionisti. Disturbano, disturbano. Disturbano, che è successo a te? Cosa ti è accaduto a te, Spartak? Anche recentemente qualcosa? No, recentemente no, però ti vengono, ti fanno delle gesta, chiedono non so che cosa, ma sono gente che tra me non lo so cosa vanno a cercare. Ma che vanno a cercare? Sesso? Ma non lo so. Quando ti è successo? Della vecchia maniera, mi piace la figa. No, vabbè, d'accordo, aspettacolo, quello... Non c'era bisogno di... Condividiamo la stessa passione. Di entrare nel merito. Cioè, proprio tu non li sopporti, non li sopporti questi omosessuali che vengono... Io non c'ho niente conto di loro, lo pensano così, però delle volte disturbono, mentre che uno magari ha lavorato tutto il giorno... Sta dormendo? Che vengono a dormire, sono sempre lì che... Che bussano... Ma qualcuno tira fuori l'uccello? Pure? Ma potresti anche, io non li ho visti. A te non è successo. Vabbè, amico mio. Ciao Spartak, sempre in gamba, mi raccomando, sul camion, mi raccomando, all'attacco, sempre all'attacco! Sempre all'attacco! Non mollare mai! Ma questo deve mollare mai! Non mollare mai! Il camion, intanto non deve mollare il volante. Beh, quello per carità. Intanto non deve mollare il volante. Improvvisamente ti piace l'albanese. L'albanese integrato, si integrato, onesto, onesto. Quando c'è un crimine di qualche albanese si dicevo, ecco gli albanesi che commettono! No, chi l'ha detto? Gianni da Modena. Fammi sentire Gianni, dai. Ok. Perché questo? Allora, questa è una storia che mi è capitato di sentire proprio per questo seminario che dovevo fare all'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antirazzismo. C'era stata una notizia di cronaca, adesso non ricordo bene, sempre con gli immigrati. Parte la trasmissione. La trasmissione, se avete notato, interviene questo camionista, che poi si capisce essere albanese, Spartak, che racconta che la sua esperienza, immigrati che provano a salire sul suo camion probabilmente per farsi portare in quella direzione. E fin qui, come dire, operazione semplicemente di racconto di quello che succede. Sono anche le domande degli speaker che fanno gli speaker che sono inadatte. Esattamente. A un certo punto, provate a pensare, io non so quanti di voi conoscono i luoghi comuni italiani, però uno dei luoghi comuni italiani è che nelle piazzole di sosta delle autostrade di notte succedono orge di tutto di più. E infatti, che cosa succede? Il conduttore della trasmissione, mentre si parlava di immigrati, butta lì la domanda. Sì, ho capito, ma adesso tu che stai nella piazzola sei perseguitato dagli omosessuali? E qui si aggiunge un'altra cosa. E cos'è che ti risponde a questo? Ma sì, mi capita. Serve, no? Per far saltare un livello ulteriore, per salire di livello. Cioè, da immigrati che saltano sul camion, del immigrato buono, l'albanese che si è oramai, come dire, perfettamente integrato nell'ambiente, lì dentro ci sono, non so se immigrati, sarebbe il peggio, omosessuali e immigrati assieme, figurati che roba terribile, che vanno addirittura a disturbare l'immigrato che è. Capite anche voi che in due minuti hai costruito uno scenario che serve a dire, beh, qui ragazzi c'è l'invasione, sono pericolosi, sono sporchi, sono cattivi, molestano le persone, eccetera, eccetera, eccetera. Ce n'era bisogno? No, appunto. Aspetta che c'è un'altra domanda. No, 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 prego, prego. No, perché qui stai utilizzando la radio non per comunicare dei messaggi positivi, ma anzi. Sì, ma allora il tema secondo me interessante è questo, cioè noi dobbiamo comunicare dei messaggi positivi? La mia risposta è no. Noi dobbiamo comunicare, o meglio, nel giornalismo radiofonico dobbiamo comunicare quello che è un fatto di cui noi siamo in grado di fornire anche delle prove. Se non siamo in grado di fornire delle prove, diciamo, questa è la nostra opinione suffragata da, che ne so, io ho un ragionamento che ho fatto, un dato che mi sono studiato, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Qui il tema è proprio che c'è un uso intelligente, perché la trasmissione va benissimo, la trasmissione della zanzara, un uso intelligente dunque, anche se spregiudicato, di tutti i luoghi comuni, tipici, che servono a dare una cattiva impressione, un cattivo disegno, diciamo così, una fotografia pessima di quello che succede. E invece c'è bisogno, e qui torniamo agli aspetti, tra virgolette, positivi, radio e diritti, c'è bisogno di altro. Allora noi, quando dico noi, chiedo scusa che io ho tante giacchette, perché come diceva Nicola prima, ho fatto per tanti anni Radio Popolare, allora mi capita di dire noi, ma non lavoro più lì. Però noi, come Radio Popolare, permettetemi di dire ancora questo, uno degli ultimi lavori che ho fatto, insieme a Radio Popolare, siamo andati in Europa a fare un vademecum, insieme a sette radio europee, un vademecum su l'uso del linguaggio giornalistico. Ciò che vale per la televisione, vale per la radio, vale per la carta stampata, poi cambiano i mezzi, però, diciamo così, le regole del buon giornalismo sono le stesse. Allora io ve le leggo velocemente, perché poi bisogna passare ad altre cose. Bisogna scegliere scrupolosamente il linguaggio, perché ogni parola può avere conseguenze. Ne abbiamo avuto un esempio, no? Nella trasmissione della zanzara, e beh, se parliamo di froci è diverso che dire omosessuali, se parliamo di stranieri è diverso che dire immigrati. Io racconto sempre questo aneddoto che mi è capitato durante la prima intifada, ero andato a seguire la prima intifada, e mi ricordo che c'era in un'edicola di Gerusalemme, vedo un giornale piegato dove c'era scritto il termine massacrati. Era il periodo in cui c'erano diversi morti palestinesi, era il Gerusalemme, chiedo scusa, Post, che è un giornale conservatore, diciamo così, allora lo compro per vedere se sarà clamoroso. La notizia era che hanno stati massacrati 20.000 polli in un kibbutz israeliano in un attentato fatto dai palestinesi. Cioè il termine massacro era stato utilizzato per l'unica volta per i polli. Capite anche voi che si poteva utilizzare anche in altre situazioni, invece hanno deciso di utilizzarlo in questo contesto. Bisogna rendere comprensibile, l'altro punto che individuavamo, era rendere comprensibile la complessità senza banalizzare o generalizzare. Se io voglio parlare dei fenomeni migratori, io devo dire che è una cosa maledettamente complicata, non posso dire che è una passeggiata, non posso dire che tutto è facile, sotto controllo, eccetera. Ok? Si tratta però di rendere le informazioni che noi diamo le più comprensibili possibili, per esempio con degli esempi. Scusate il gioco di parole, funziona però l'esempio, no? È successo questo. Oppure fare delle, come dire, fare dei confronti. A volte serve. È successo questo e come se. È un modo per capire. Allora, parlando di linguaggio, mi sarà capitato qualche volta di dire in questo momento, nel 2022 sono stati consumati 100.000 ettari di suolo. Quant'è un ettaro? Eh, bravo, non si sa, neanch'io lo so. Quindi se tu dai la notizia, è, l'è ettaro? Che è un modo di dire quanto misurano i campi. Io non ho la più pallida idea di quanto sia. Dunque si fa un confronto, no? Si prova una similitudine. Quanti campi da calcio? Più o meno, tutti sanno che il campo da calcio è bello grosso, no? Diciamo. Prego, fare un esempio. Però ti devo dare il microfono. Senza il microfono. Ma no, almeno a chi poi ascolta. Proviamo, proviamo. Vai, vai. Come quanto è salito Salvini, quanto aveva contro gli stranieri, soprattutto sui stranieri ricchi, quelle cose lì. Potevamo scrivere come per dire Salvini sta facendo le stesse cose come stava facendo con gli ebrei, facendo esempio. È provocatorio. No, hai ragione. Allora, io ho sempre paura di fare dei, avere dei riferimenti storici così impegnativi. Cioè, secondo me la Shoah ha un valore in termini numerici, scusatemi la banalità, ma anche in termini ideologici per tutto quello che noi abbiamo costruito intorno enorme. Se tu mi parli di genocidio, io intendo esattamente quello che si intende dal punto di vista del diritto. Cioè, mettere in atto dal punto di vista ideologico poi dal punto di vista pratico l'uccisione sistematica di minoranze. Non riesco a dire non riesco a dire un genocidio per dire che c'è stato, perdonatemi, 20 morti. Ma perché non è giusto? Nel senso per dire che qua, quando ha avuto questo pensiero contro gli stranieri e come ha avuto il pensiero che c'era a quel tempo contro gli ebrei, quel pensiero, non dentro il fatto che è successo. Meno male, finora non è successo niente, però nel senso, parlando come esempio, ho pensato questo. Sì. Allora, io non riesco a immaginarmi un desiderio e neppure una programmazione da parte di un governo per l'uccisione sistematica di queste persone. Io penso che abbiano in testa anche questo governo che esistono delle persone di serie A e delle persone di serie B. E le persone di serie B hanno meno diritti delle persone di serie A. Questo sì. Però non riesco a mettergli in testa anche un desiderio omicida. Ecco, questo no. no. Sì, prego. Perché praticamente io, perché in quell'anno ero sempre in Italia, un po' ho vissuto quella popolazione adorno a me, nel senso, quindi comunque mi sono accolto da quando lui è salito, anche Radio, anche IED, da lì hanno cominciato tutte le cose contro gli stranieri. Cioè, tu stessa ti sentivi... No, ma c'è, c'è, usciva delle cose che prima non c'era, oppure per dire gli stranieri fanno negozi in regola, tutto, magari è giusto tutto, però tutto in una volta, in un stesso periodo, facendo un scandalo, sembrava gli stessi metodi che aveva usato quella volta. Però tu ti sei sentita minacciata personalmente? Io personalmente non sono proprio un straniero, quindi, però le persone accanto a me sono sentite minacciate e sono anche avuto paura, cioè nel senso, perché nel senso tutto il mondo intero stava dicendo, ah, siete da... oppure andavo su tram, vedevo un straniero che doveva scendere da tram e un italiano la minacciava, minacciava perché... Ci sono degli stativi episodi. Sì. Ok. Eh, vedi che è interessante, secondo me, il punto di... perché poi dopo, quando partiamo dalla nostra esperienza, forse è anche più chiaro che cosa intendiamo. Io andrei avanti perché sono già le 11, ok? Quindi, appunto, spiegare la complessità ma non banalizzarla. Fondamentale. Fornire un adeguato ventaglio di punti di vista. Allora, eh, ma che c'è bisogno di avere l'opinione di chi la pensa così e di chi la pensa all'opposto. Questa è la cosiddetta par condicio. Follia totale. Dal mio punto di vista, follia totale non serve a niente perché allora se io intervisto il procuratore nazionale antimafia, devo anche intervistare Totò Riina. E' proprio, cioè, è concettualmente sbagliato. Voi sapete che la par condicio è nata perché durante il periodo in cui Berlusconi era la prima volta presidente del Consiglio, si era posto il problema che Berlusconi, essendo proprietario delle reti televisive, aveva un potere di condizionamento dei mass media che nessun altro poteva avere. Dunque si è introdotto a questo meccanismo che allora doveva essere di equilibratore, ma che è diventato, che poi è stato a sua volta strumentalizzato, appunto, no? Quindi dare più punti di vista non significa dire una cosa all'opposta dell'altra, ma significa fornire, appunto, una serie di valutazioni diverse, il più possibile, poi ci arriveremo, come dire, supportate da prove. Contrastare, appunto, la falsificazione dei fatti o i discorsi d'odio. Questo è importante, quando voi fate radio, soprattutto, quindi non tanto podcast che sono registrati, ma quando fate radio in diretta, non dovete contrapporre la vostra opinione con quella di un ascoltatore o di un ospite che non la pensa come voi. Non è un problema di contrapposizione. Voi dovete fare delle domande, dovete chiedere spiegazioni, dovete avere i dati in mano per dire ma guardi, non mi risulta, succede, c'è un altro fatto. Cioè, insomma, in poche parole, voi dovete, o viceversa, c'è una persona che la spara grossa, dice una fake news, scusi, ma lei dove l'ha trovato questo dato? Non, non è vero, te lo dico io, l'atteggiamento non deve essere quello, ok? Ma deve essere quello, mi dà le prove di quello che sta dicendo? Ok? Quindi bisogna precisare e naturalmente anche qui, in questo caso, per esempio, mettere a supporto degli esperti, degli esperti che però devono avere la competenza, non devono essere, insomma, durante questa guerra in Ucraina abbiamo visto alcune trasmissioni televisive dove abbiamo invitato, perdonatemi, cani e porci, cioè, chiunque aveva letto il dottor Zivago poteva andare in onda a dare dimostrazione di conoscenza della cultura russa. E tu dici, no, aspetta, ferma, un attimino, ok? Questi sono esattamente, sono un'estrema sintesi perché abbiamo un'ora a disposizione adesso e quindi devo andare un po' veloce, ma naturalmente sono pronto alle domande. In generale, le regole di buon funzionamento, diciamo così, che vi ho dato, a me sembra che siano di buon senso e soprattutto dovreste provare a mettervi davanti ad uno specchio e dire, ma vorrei essere trattato così, o? Se la risposta è sì, vorrei che di fronte a una obiezione qualcuno mi dica, porta l'obiezione e fammi capire dove l'hai trovato, fammi capire i dati, eccetera. Ecco, questo è un atteggiamento che funziona. Non funziona l'atteggiamento, appunto, persecutorio, l'atteggiamento da fucile puntato pregiudiziale, ok? Se volete fare podcast, perché ho capito che molti di voi vogliono fare i podcast, mi sembra di aver capito, bisogna avere una buona conoscenza del linguaggio che noi stiamo utilizzando, su cui abbiamo fatto già qualche... ma dobbiamo sapere bene, dobbiamo sapere anche utilizzare molto bene i mezzi a nostra disposizione. E questo è il prossimo esercizio che vi propongo di fare, del prossimo file che chiedo di far sentire. Prima però, appunto, sul linguaggio. Io non... voi siete... mi state guardando e quindi state guardando anche il linguaggio del corpo che utilizzo io. Però, se avete notato, io non solo gesticolo, come fanno il 99% degli italiani, quindi non è un problema questo, ma cosa faccio? Vado a volte più veloce, a volte più piano, nel linguaggio, a volte faccio delle sottolineature col tono della voce, a volte mi fermo, a volte dico delle parolacce, quindi tanto funzionano. Questo è un modo, se ci pensate, per tenere viva la vostra attenzione. Ed è esattamente quello che voi dovete fare anche quando fate un podcast. Se io parlassi sempre così, con questo tono di voce, senza mai fermarmi un secondo, senza le punteggiature, il podcast sarebbe antinoioso da sentire. Uno, la radio... regola uno della radio. Non si può avere il silenzio. Non è vero. Se non c'è il silenzio, non c'è la voce. Io mi sono fermato adesso per fare questa sottolineatura. Se io avessi parlato velocemente, senza mai fare... Probabilmente avrei rispettato la regola del vietato il silenzio, ma voi non avreste capito nulla dell'importanza delle cose che stavo dicendo. Ok? Cassetta degli attrezzi. Vi propongo di ascoltare, sono tre minuti, se non sbaglio, i folletti, circa, no? Più o meno, vado a memoria. Vediamo se questa signora... C'è un bellissimo cane. Ciao, Chico. Ecco, molte volte troviamo i cani, che sono l'antifurto e l'allarme della signora. Signora, buongiorno. Una gentilezza, signora. Per caso, signora Bataggia, voi siete clienti della Folletto? No, 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 no. Non è che niente. No, sono a posto con tutto. Ci metterai, signora. Sono a posto con tutto. Non abbia paura. Ho un mucchio di... Di aspirapolvere. Aspirapolvere, di scoppe elettriche, lucidratrice. Perché non provo il nostro, signora, che è leggero? Signora, perché non provo il nostro, che è leggero? No, ma avrei un mucchio di roba. No, posso spendere da un'altra parte. No, ma vorrei spendere un po' lento. Inizialmente anche gli amici mi dicevano, guarda, la donna che lavoro, loro lavoravano, chi era sempre detto? L'acqua. Chi era l'Apriglia, chi era la Montedison, chi aveva lavori molto più sicuri, oggi invece hanno poco lavoro. Sai, poi addirittura sono a casa, in casa integrazione. Io ti dico, siamo fortunati noi che facciamo sto lavoro qua. Se lei mette una mano... Come si chiama di nome, signora? Enda, enda. Enda, enda. Muoviti la seguente, così. Eccato, io non lo uso più, perché uso solo questo. Sì, ma per quello, questa non ha usato, questa, questa andrebbe usato... Allora, questo è stato un podcast... No, qui fischia tutto, mi sa che... Non so qual è dei due. Forse devo spendere questo? Ok. Allora, se io tengo il microfono qui, io non faccio un podcast così bello. Ok? Perché? Perché nel momento in cui cammino, dov'è che sta il microfono? Davanti a me. E perché deve stare davanti a me? Deve stare qua. Io devo far sentire che sto camminando. Non posso farlo sentire se tengo il microfono qua. Lo devo tenere qua. Tu riesci, per favore, a farli sentire la partenza? Puoi, per cortesia? Proprio un secondo? Di Folletti. Esatto. Ce la fai a alzare un attimo? E ci vediamo se questa signora... Ciao, bellissimo cane. Ok? Possiamo andare... Lo lasciamo qua. Quando va a fare... Quando suona il campanello, dov'è il microfono? Dove? Vicino al campanello. Io ho capito, se io lo metto vicino al campanello, però io non parlo più. Non si sente la mia voce. Ma penso che sia, in realtà, durante tutto, è un attenziale che può sentire le veloci, ma anche lui. Quindi ha un lavaglie come il mio? Sì. Secondo te? E quando parla Elga, cosa fa? Parla così, dice Elga. No, c'è un microfono che riesce a percepire anche quello. Ma la qualità del suono che ho io, quando sto parlando così, non è la qualità del suono che arriva da te, che stai parlando a due metri di distanza. Ma dipende, infatti, la voce della signora era un po' di sottofondo. Non sempre. Quindi probabilmente non aveva un lavaglie. O? Ah, il mezzo fucile. Eh, però il mezzo fucile si vede, nel senso che la signora non è lì per prendere col letto, ma per registrare o per prendere col letto. Sì, sì, certo. No, ma questo è un podcast fatto assolutamente, non è nascosto, è questo. No, assolutamente. No, 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 no. È una roba del genere, non puoi farla da nascosto. Probabilmente un mezzo fucile, non escludo che avesse anche lui, come si chiama, un lavaglie. Però la cosa importante, riusciamo a mandarlo avanti ancora un po'? Tanto giusto così lo teniamo in sottofondo e poi vi dico io cortesemente di alzarlo. Scusatemi se vi uso come... Poi andiamo a fare un altro esercizio, non vi preoccupate che non vi faccio annoiare. Deve espirare bene. Vai, vai. Anche perché hai già pignola. La morale? No, nessun pignola. Dai, puggettissi, dai. La morale, dai, tira la morale. Sta parlando così. Vorrei comprarmi la scopetta. Adesso invece si allontana. Perché serve a dare distanza. Non è tutto uguale. Non è solo botta e risposta. C'è un certo punto... ...e' diventata più esperta. Cioè la gente oggi è più timorosa... No. ... negli acquisti. Questo è il pensiero. Certamente ha più paura. E' il pensiero di dover... ...e dunque... ...spender mille o duemila euro. E' in un posto chiuso. Non è più nella villetta con i cani che abbaiano. Io ho dato l'idea di essere qua perché sto pensando. ...e che il prodotto che noi vendiamo non è una spesa folle. Ma è una necessità. Sì, si è fatto. Il problema della Elga... Scusa Elga. Non sei tanto la polvere e basta. C'è dell'unto. Anche a casa mia. Si tratta che è la nostra qui... ...questa questo se ci pensate. Dream... Signora, dove sei? Ah, sono qua. Ecco, venga, mi faccio entrare. E la telecamera intanto che ti segue. E il signore col mezzo fucile probabilmente che ti sta seguendo. ma ogni tanto deve rimanere fuori campo. Perché se no, io non capisco che la signora Elga è là. Che sta rispondendo al microfono, al citofono. Io ho bisogno che si senta da lontano e che la mia voce si senta invece da vicino. Perché se io lo metto in mezzo, perfettamente in mezzo... Scusa, ti uso perché sei qui in prima... No? E' chiaro che non si percepisce la distanza. Siamo in mezzo, abbiamo la stessa tonalità. Invece lì, ogni tanto lei deve essere lontana e io devo essere in primo piano e viceversa. Ok? Tutto questo l'avete capito da soli senza bisogno che qualcuno ve lo spiegasse. Perché è stato molto bravo. Scusami, mi sono dilungato e quindi mi sono perso la tua domanda. Sicuramente. Si può dire che il podcast è intervallato da fasi anche narrative? Assolutamente sì. Che vengono fatte appunto con... Il suono deve essere diverso. Non è più un microfono in mezzo alla campagna, ma realisticamente da quello che ho potuto intuire si sono chiusi in una macchina. Cioè la parte dove lui racconta... Dove lui pensa, racconta, eccetera, eccetera, è quella. E quella parte può essere scritta oppure improvvisata, tra virgolette? Ogni podcast è diverso. Questa parte qua, secondo me, aveva molto senso che non fosse scritta. Aveva molto senso che fosse... Eh sì, la mia vita è quella, mi sono sposato, poi qui sai la crisi, bla bla bla. Non era una parte scritta. Ok? Però adesso io non volevo entrare più di tanto nei montaggi perché probabilmente poi su uno share radio che inviterete Jonathan Zenti, dai. Porca miseria, eh. Esercizio? Se non ci sono domande. Vi va? Avete freddo? No. Benissimo. Allora, mi andate fuori lì un secondo per 5 minuti di orologio, 5 non di più, e tornate e mi descrivete cosa vedete? Lì fuori. Quella parte lì? È freddo. Sì, è freddo. Eh, ok? Però, oh, 5 minuti, eh. Perché poi dopo, guardate che sono già le 11.20. E quindi... Forza! Via! Adesso l'aula è vuota, come facciamo? Facciamo la diretta qua, io continuo a parlare per sei ore. Abbiamo un'immagine qua. Ok? Andiamo a vedere dove va, andiamo a vedere come va. Allora, dovete fare di qui. uscite, uscite, uscite proprio. Ok? Per esempio, il microfono adesso dove lo mettereste? Se dovete camminare... Dove lo mettereste? Qui adesso... Perché dovete sentire... E poi a un certo punto è diverso il suono che avete qua, no? Dal suono che poi trovate, per esempio, camminandola fuori. Senti che è già suono di... Con le foglie, eccetera, eccetera. Ok. Allora, proviamo a vedere qua. Ecco, qua. Noi eravamo dentro, giusto? Eravamo dentro lì. Quindi ciascuno di noi, in qualche modo, vede un solo fatto, che è questo, questo spazio qua. Noi non ha... Cioè, possiamo dire che questa è la notizia. Ed è unica. Non c'è possibilità di... E adesso sta a voi decidere, quando tornare dentro, descrivere in 30 secondi di orologio, 30 secondi, che cosa... Che cosa... Dovete raccontare questo fatto. Il fatto è il parco. Ok? Basta. Gli ho mandati in crisi, probabilmente. Aiuto. È un gioco, ma fino a un certo punto. Ok? Mamma mia, si è affreddata. Allora, chi vuole cominciare? La cosa importante, secondo me, è che... Una micro regola del giornalismo. La notizia, che è appunto il mattoncino, no? Da cui partire, il primo mattone, la prima pietra, è un breve resoconto di un fatto. Ok? Provate a tenervi in testa questo. Un breve resoconto di un fatto. Breve perché siamo radio. Resoconto significa che tu non ti limiti ad andare lì a guardare, ma provi a trovare il modo migliore per raccontarlo, quello più efficace, per farlo capire ad una persona che non ha assistito allo stesso fatto. Ora, è vero che è un po' raro, diciamo così, per un giornalista assistere ad un fatto. Ok? Molto spesso lo fai a tre sue agenzie, però è la base da cui bisogna partire. Ok? E il fatto è un evento che è... La cosa per me importante oggi è proprio questa, cioè il fatto, questa cornice che noi vediamo, è unica, cioè ciascuno di voi siamo due, quattro, sei, sette, una decina, e dovremmo avere tutti la stessa identica idea. Ho la sensazione che non sarà così. Ok? Chi vuole cominciare a fare il breve resoconto del fatto? Vai! Aspetta, credo che ti debbano dare un microfono per rendere tutto più credibile. Là, e là, e là. Ok. Allora, vediamo. Dunque... No, dunque no. Buongiorno. Sì, buongiorno. Durante il corso, diciamo, di Sharedio, a un certo punto della retezione, siamo usciti, c'è il professore, la chiamo professore, ci ha invitato... L'esimio, professore. L'esimio, dottor. ci ha invitato ad uscire per fare un breve resoconto del fatto. Siamo usciti, chi con giubbotto, chi con giubbotto... che è giorno, c'erano voci diffuse, lontane, e camminando ancora un po', in seguito siamo stati invitati a rientrare. E misteriosamente bisogna descrivere cosa abbiamo visto, insomma. Va bene, ok. Ci siamo? Sì. Però adesso dobbiamo vedere gli altri cosa hanno capito. Vuoi passare tu il microfono? Ah no, vorrei passare il microfono. Sì, appunto. Ti sta passando il microfono per... Buongiorno. Quanto professore... Non so come si chiama, no. La collega mi ha passato il microfono. Io racconto il fatto che avevo visto con la richiesta del professore che ci ha detto di guardare il giardino. Mi sono accolto che c'era sull'albero un caldello ma ha disegni per bambini e ci sono anche delle lampadine sempre da festa. Su coltile sono piene di plastiche e spazzature. Vorrei dire che questi giorni c'era stata un po' di festa per gli ragazzi o bambini di questa zona. E magari non è anche... Magari con... Magari con... Volendo a pulire tutto hanno comunque lasciato dei sporcizi e vedo anche il caldello delle macchine putate per terra che non sempre putate per la via di macchina sempre putate a mano delle persone e quindi sembrano che c'è stata anche un po' una festa incasinata in questa zona. Bene. Vuoi passarlo alla tua vicina di Banco? Ci provo. Poi magari facciamo dei commenti su questo. Siamo a Milano in un sabato mattina un po' freddo e nevoloso. Sono andata ad osservare un parco adiacente ad una cascina. Anche se ci sono delle foglie per terra queste non sono cadute dagli alberi. Osservando il parco sembra che gli alberi siano stati studiati. Sono divisi in modo quasi preciso in file verticali e orizzontali. Quasi da non farmi perdere. Ci sono delle lucine che sono tutte unite e che uniscono i vari alberi e vorrei sapere come saranno di sera quando sarà buio. Un piccolo particolare se qualcuno alza la propria visuale è un libro appoggiato solo su un albero in centro di un racconto di giochi di... si chiama Pimpa se qualcuno lo conosce. Alla mia destra sento... si possono sentire nelle persone che parlano in quanto c'è un mercato e di fronte si può vedere un parcheggio che implica probabilmente che le persone stanno ancora riposando in quanto è un giorno festivo. Ok. Bene. Non so se vuoi tu o la... Come vuoi tu? Ah, passi? Va bene? Ah, ti metto in soggetti. Mi trovo vicino al tuo. No, con una fredda. È una mattinata fredda di novembre a destra ci sono delle persone che affrontano la brezza gelida per andare al mercato e davanti a noi ci sono delle autoferme. Mentre osserviamo il libro dal titolo Un giorno di giochi incastrati in un albero che sembra essere malato e a terra notiamo quella che sembra essere una corona di una festa di compleanno gettata da qualche bambino una macchina parte e poco dopo suona un telefono. Ok, ottimo. Qui in redazione Radio Portami con te siamo qua a Mare Culturale è stato avvistato il libro della Pimpa intitolato giorno di giochi e inoltre si pensa che ci sia stata una festa luci sugli alberi cartace per terra è stato un rave party ma andiamolo chiamiamo subito la polizia no no io in realtà ha avuto un momento di panico io mi sono assentata esatto non so se è il momento dei commenti ecco magari facci i commenti altrimenti dopo sì sì dopo facciamo proviamo sì proviamo buongiorno oggi è un sabato mattina nella Milano Grigia come grigio il suo asfalto e le sue monocromatiche macchine ad un certo punto un cortile verde tra i rami tra i rami di un albero c'è la pimpa con il suo sole e il mercato artigianale che con le sue voci interrompe il grigio di un amiano e basta ottimo adesso tocca a te poi chi c'è? c'è tu chi manca? ok riesci a passarlo davanti il microfono? grazie allora un sabato mattina di novembre all'interno di una cascina siamo andati a vedere un parco dove è stato avvistato un libro della della pimpa un parco disordinato con con foglie e spazzatura per terra basta così perfetto breve chi manca? ok non lo sai ancora sei indecisa sei indecisa vabbè poi dopo vediamo se ti riusciamo a convincere prego ci troviamo a ridosso di una cascina vicino a un parcheggio gli alberi sono connessi da varie lucine uno di questi vede appoggiato un libro della pimpa a terra c'è una coroncina di plastica qualche bicchiere tutti i presupposti per una festa di una piccola famiglia basta ok vai che ce la facciamo allora io documenterei che siamo usciti dal mare culturale urbano e abbiamo abbiamo passeggiato attorno a una viola che a sua volta è circondata da un condominio un mercato immagino di quartiere e tutta un'area che si può dire di periferia perché è abbastanza spenta nel senso che tolte le persone al mercato non ho visto nessun altro for che noi e il libro della pimpa in mezzo a un albero ottimo grazie allora erano tutte molto belle funzionavano tutte però avete notato che ciascuno di voi ha raccontato qualcosa di diverso o meglio per essere precisi tutti avete raccontato una cosa molto simile ma con degli accenti molto diversi scusami tu che in fondo mi dici il tuo nome per cortesia Kim ecco per esempio quasi giornalismo narrativo Milano è grigia grigia come l'asfalto grigia come le macchine hai capito? è una roba da giornalismo narrativo non è come dice lui io sono andato fuori ho visto quella roba di tac 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 era c'è chi che era molto dettagliato esatto invece è cercato di semplificare esattamente l'immaginario ma infatti non c'è secondo me un modo giusto o sbagliato per raccontare questi fatti dipende naturalmente che tipo di podcast o che tipo di giornalismo voi volete andare a raccontare allora un giornalismo un po' narrativo come quello tuo un po' intimista diciamo così è chiaro è adatto il racconto che tu hai fatto è adatto per un podcast un po' intimista un po' adesso ti racconto un po' come la vedo io questa città lei sembra un urbanista invece mi dici il tuo nome scusa Marco Marco è un urbanista cioè quello poi il condominio la periferia la via no è quasi è quasi no capito allora io non so dirvi qual era giusto e qual era sbagliato secondo me tutti andavano bene no dipende cosa voi volete andare a raccontare il contesto in cui siete questo è l'altro elemento fondamentale per un notizio come comunica uno speaker non lo capito bisogna anche dal modo di cui comunica uno si prima c'è un esempio faccio la regista a share radio devi prendere il microfono che non so dov'è ecco grazie voglio fare un esempio che faccio speaker e regista qui a share radio ho come quanto regista ho a che fare con speaker molto di diversità di loro non solo per cosa vogliono raccontare nel loro programma ma anche per il modo in cui loro parlano in cui loro comunicano le cose c'è chi è molto sintetico come esempio me oppure anche un altro speaker go to the voice e c'è chi invece va molto lento molto lungo come esempio lo speaker Matteo che fa un programma dove fa delle interviste ad altre persone esatto ok quindi appunto a seconda del programma che voi andate a fare a seconda del podcast che voi volete fare è chiaro che ci può essere un registro diciamo così diverso rispetto a un altro tu hai fatto per esempio anche col tono della voce no? Chiara? ma eh? Irina vai scusa ho fatto un casino chi è Chiara? tu eh vedi c'era una Chiara in giro allora Irina per esempio anche lei è molto un po' intimista come racconto ma pensate anche a come la lettura è stata più lenta no? ha fatto una lettura molto più riflessiva in qualche modo lei tuo nome? Stella Stella per esempio è interessante perché ha posto il dubbio ha detto no è successo questo abbiamo visto questo abbiamo visto quell'altro non è che magari no? anche come tono di voce no? la posta come domanda non è che c'è stata una festa non è che hanno tagliato male come si chiama il prato o cose di questo genere ok? cioè vedete ognuno di voi ha trovato una modalità che è quella che si sente propria uno una persona che viene dall'esterno pensa che avete visto tutti la stessa cosa sì però con tutta una serie di particolari diversi l'unica critica che vi devo fare è ma cosa ci faceva l'albero della pippa sull'albero la ragazza se ne intende la ragazza è furba esatto l'abbiamo messo apposta proprio per dire a questi lo vedranno o non lo vedranno che c'è un albero della pippa c'è un libro della pippa sull'albero punto di domanda prego la cosa 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 che secondo me è da notare è che tutti hanno visto c'è un elemento che accomuna tutti ovvero aver visto l'albero del libro sull'albero che però ciascuno ha visto qualcosa di diverso quindi la narrazione è diversa ma è uguale in alcuni punti sì d'accordo cioè sono dei particolari diciamo così diversi esatto alcuni però si sono spinti oltre appunto con la domanda che dal punto di vista giornalistico funziona funziona dire ho visto questo questo chissà che cosa c'è stato immaginiamo che per esempio può funzionare come modo sì è un po' come nella fotografia che la prima cosa che si narra è che ciascuno ha la propria visione il proprio angolo ed è unica da quel punto di vista assolutamente sì sono d'accordo con te è come una fotografia però sai anche qui vai col teleobiettivo vai col grand'angolo ti soffermi fai la macrofotografia cambia anche poi quello che tu vuoi raccontare e gli strumenti che utilizzi per raccontarlo chiarissimo cioè se tu sei per esempio in guerra è una cosa che continuo a contestare alla narrazione che viene fatta della guerra in Ucraina in questo momento da parte di tantissimi giornalisti tantissimi e che parliamoci chiaramente tu in guerra sei di fatto embedded cioè sei embedded cioè sei collegato direttamente dipendi direttamente dagli eserciti che ti portano in un posto o nell'altro a seconda naturalmente del proprio interesse a raccontare un fatto piuttosto che un altro ok quindi quando tu racconti la guerra in Ucraina o in Ucraina non so mai dove sta l'accento in realtà racconti un pezzetto di quello che vedi e molto spesso un pezzetto di quello che ti vogliono far vedere allora io non dico che è sbagliato dico che è sbagliato pensare che tu stai raccontando tutta la guerra no tu devi dire io sono andato qui e ho visto questo e ho visto questo perché mi hanno portato a vedere questo se l'hai detto perfetto io non ho niente da contestare a quello che tu dici se tu invece vai a vedere Kerson e mi racconti dici ecco da Kerson è partita la rivincita dell'Ucraina adesso si arriverà a Mosca in 15 giorni e ti dici ma come fai a saperlo sei lì non puoi no esatto no ti immagini il futuro no non funziona è corretto dire ho visto questo se le cose stanno così è probabile che siamo di fronte ad una vittoria un'avanzata dell'esercito ucraino bene ti ho detto io ho visto questo da quello che ho capito da quello che ho studiato mi sembra di poter dire anche questo mi sembra di poter dire anche questo quindi arrivo le conclusioni allora se questo è filologico io ci sto ci ho messo dentro un fatto cioè io ho raccontato quello che ho visto ci ho messo dentro una mia competenza ho studiato tanti libri e mi accordo che succede questo e ti dico che faccio anche una previsione allora se tu mi avvisi che questa è una tua previsione non è una cosa che è per certa io non ho proprio niente da ridirti così va bene ok quindi hai aggiunto un elemento anche personale di commento se vuoi a quello che stai raccontando allora bancano 15 minuti quindi direi che è il tempo di dire di sentire le vostre opinioni domande ringraziandovi naturalmente del lavoro fatto sono molto contento di come avete reagito a questo piccolo esercizio con ammesso trucco della pimpa domande dubbi che poi il libro della pimpa dopo non ci sarà più da fuori penso che l'abbiano già prese no no adesso lo portiamo dentro perché poveretto si scioglie puoi passare il microfono e poi c'eri anche tu se non ricordo male che hai una domanda da fare allora prima di di scrivere cioè di pensare come dare la notizia avevo pensato anche in modo creativo di inventare l'arrivo della pimpa quindi si poteva anche fare giusto cioè dipende appunto da come vuoi fare il podcast se fai il giornalista radiofonico io ti mando fuori no certo certo se ti dico fai un podcast sulla pimpa sì assolutamente appunto dipende ripeto cosa vuoi fare dall'obiettivo io voglio raccontare anzi non me ne frega niente voglio fare un podcast di sogno di come immagino Milano e allora ti immagini parti dalla pimpa sull'albero ma cosa ci facevi dalla pimpa e torni indietro fai il flashback certo ok e poi un'altra cosa come si chiamava il quella del folletto il regista che ha fatto quella devo controllare no forse Bellizzi forse adesso lo ok grazie lo cerco prego se vuoi in frattempo io faccio una domanda mi chiedevo se potessi darci qualche dritta in merito al giornalismo indipendente oggi indipendente indipendente nel senso considerando anche indipendente le radio libere nel senso che abbiamo parecchie radio emittenti libere in Italia quindi che condizioni vertono e in che condizioni verte invece chi si approccia a questo mestiere prova a farlo in maniera indipendente quindi mettendoti nei suoi panni se hai qualche suggerimento da dare dunque è difficile risponderti perché purtroppo l'indipendenza nel giornalismo adesso poi lo cerco l'indipendenza nel giornalismo è diventata una merce sempre più rara perché tu puoi anche fare una web radio e ti costa 10 euro 20 euro perché una volta che hai un microfono e una linea telefonica che già usi per le tue telefonate la web radio l'hai fatta però il problema è chi ti ascolta naturalmente e ovviamente nella maggior parte dei casi sei schiacciato letteralmente da questo tema purtroppo io credo che stiamo andando incontro a un periodo in cui saranno sempre più rare le forme di indipendenza vedi è un campo diverso me ne rendo conto però la notizia di queste settimane nel campo della comunicazione è Twitter è arrivato un signore che ha detto lo compro è mio e quindi faccio quello che voglio è un po' diverso da Twitter come l'abbiamo utilizzato finora ok adesso è arrivato Elon Musk e ha detto si fa così punto basta quindi lì sempre ammesso che quel mezzo di comunicazione fosse un mezzo indipendente cosa che non lo era fin dall'inizio però dove tu avevi degli spazi di indipendenza rischi di non averne più adesso allora mi dicono prendetela con il beneficio di inventario che l'ultimo digital act della Commissione Europea che deve essere approvato credo dai singoli stati entro il 2023 finalmente introduce questi elementi invece di separazione separazione barra intreccio tra comunicazione informazione detto in parole molto semplici tutto ciò che passa su Facebook tutto ciò che passa su Twitter tutto ciò che passa su altri mezzi di comunicazione non ricadono sotto le leggi dell'editoria dove c'è quindi un direttore responsabile che è anche responsabile di quello che viene scritto eccetera eccetera perché perché la legislazione americana da cui dipendono tutti questi social di cui stiamo parlando ti dice ma noi non siamo un mezzo di informazione siamo un'autostrada su cui passano diverse macchine noi non siamo responsabili di quello che le macchine fanno se vanno a 200 all'ora sono cavoli loro no? per fare continuare con questo esempio credo di aver capito che nel digital act invece ci sia esattamente l'opposto ci sia no tu come mezzo di comunicazione stai ospitando talmente tanto contenuto informativo che adesso tu sei anche responsabile di quello che succede ed è un elemento decisivo perché finora il fiorire di elementi di fake news e anche di linguaggio d'odio dentro i social deriva anche da questo cioè che tu non sei titolare di niente di quello che accade web radio io dico la verità a me le web radio piacciono ma temo che abbiano come dire un mercato uso una parolaccia un mercato molto limitato cioè che funzionino molto bene se sono di comunità quello sì allora io sono una radio di comunità che può essere molto larga attenzione può essere questo quartiere di Milano può essere Milano può essere la diaspora marocchina come mi dicevi tu prima dell'inizio della lezione e allora no puoi fare e allora lì comincia ad avere un senso perché ti riconosci fai parte effettivamente ti senti di far parte di un gruppo uscire all'esterno invece è molto più difficile infatti avevo questa domanda come si fa aspetta e poi dopo ricordiamoci che c'è lei che poveretta se no la saltiamo sempre prego infatti avevo questa domanda come si fa a comunicare se poi ora i giovani quasi nessuno ascolta più la radio perché l'ha detta adesso dovevi dire all'inizio andavamo tutti a prenderci un caffè e hai ragione cioè la radio prendilo tu perché sennò poi dopo non ti parleremo mai non ti daremo mai la parola no hai ragione nel senso che è vero che la radio è uno strumento che viene considerato diciamo così oramai da boomer in qualche modo però i podcast sono per esempio un fenomeno molto frequentato anche dai ragazzi in podcast io facevo fino all'anno scorso adesso continuo a fare poco la scuola di giornalismo insegno la scuola di giornalismo della statale e molti ragazzi che sono persone più o meno tra i 23 24 25 anni quelli che vengono di solito a fare il master da noi quasi tutti insomma hanno ascoltato podcast ascoltano molto podcast ecco per esempio anglosassoni inglesi o americani questo sì io ho più difficoltà invece con le lingue quindi ascolto poco non riesco a a seguirli bene però per esempio c'è un uso enorme di podcast americani perché effettivamente poi dopo le serie più interessanti sono nate lì adesso poi sono molto diffuse però c'è un fenomeno come serial è stato quello che ha dato il lancio a tutto a tutto questo cinema prego ciao ciao in realtà sono passate diverse domande dopo qui avete già risposto quindi grazie quindi è stato ampiamente il commento sul vostro racconto anche io ho trovato diversi stili registri diversi a seconda del proprio vissuto della propria personalità poi anche la domanda avevo anche la domanda poi è stata fatta sul giornalismo indipendente io quindi in realtà puoi salutarvi perché poi avete già risposto a tutte le le domande ma in realtà adesso quest'ultima domanda mi ha mi ha aperto un'altra riflessione sì sulla differenza tra radio radiogiornalismo e podcast perché sono completamente due strumenti io li trovo diversi uno è più sensazionalismo dalla notizia immediato no forse mi sbaglio il podcast è più di approfondimento quindi vado io tematicamente a scegliere l'argomento io sono un appassionata per esempio di crescita personale quindi le mie scelte sul podcast vanno direttamente su questo tema raramente riesco a trovare delle puntate di radio radiogiornalismo su questo quindi e proprio stiamo parlando di due di due canali diversi pure avendo lo stesso canale radio c'è da vedere quanto la gente quanti ragazzi siano disposti da capire quanto i ragazzi siano disposti a a scegliere il podcast perché io mi ritrovo a delle volte con la mia generazione ma anche la generazione ad esempio di mia sorella più giovani che non hanno tempo quindi perché forse perché con i tempi sempre più veloci dettati da una velocità anche non solo dell'attenzione quindi poi si allarga proprio a un discorso anche di attenzione dei giovani sui social e quindi anche sulle piattaforme di quanto vogliono investire il proprio tempo per approfondire determinati temi mentre io che appartengo se di forza ai boomer sono disposta a perché mi interessa quel tema ci vado altri giovani parlo di mia sorella perché lei incarna la giovane di 24 anni 25 e dice io non ho tempo per ascoltarmi un podcast piuttosto mi ascolto il notiziario o comunque qualcos'altro che abbia una durata di pochi minuti quindi questa è la mia riflessione da fare forse a conclusione allora è chiaro che il il giornalismo radiofonico è è diverso dal podcast in quanto tale ma se tu non conosci il giornalismo radiofonico secondo me non ti riesce poi così bene il podcast cioè il podcast secondo me in questo momento è scusa allora l'ho trovato nel frattempo faccio apro una parente Matteo Bellizzi il documentario si intitola 20.000 folletti ed è molto vecchio pensate che più di 10 anni questo podcast cioè tutti noi che facciamo radio da una vita come ha fatto notare con con poca gentilezza Nicola Mogno dandomi del vecchio abbiamo sempre fatto podcast ma non sapevamo che si chiamassero podcast pensavo fosse radio no allora ritorno scusami alla tua domanda è vero che è diverso secondo me ti aiuta molto sapere quali sono le potenzialità che tu hai la potenzialità della voce cioè io ho cambiato tono di voce 136 volte durante questa chiacchierata che ho fatto con voi perché se no non riuscivo a tenervi incollati e voi dovete per esempio imparare a modulare la voce a fare delle sottolineature quando servono questo è la bici della radio il fatto che tu devi essere semplice come ti prendevo in giro prima e ti dicevo non dire dunque vai subito alla formula siamo usciti e abbiamo visto che c'era il libro della pimpa punto perché? perché la radio è quella roba lì ok? devi fare un podcast così no però tu lo sai che quello che rimane in testa è proprio un flash è proprio un'immagine è proprio un suono non è l'insieme io sfido a sapere tutto a memoria un podcast di 20 minuti hai dei momenti in cui ti annoi dei momenti in cui ti rialza l'attenzione eccetera eccetera e come lo fai? attraverso gli strumenti della radio un buon microfono all'aggiunta della musica i suoni eccetera la radio come forma di giornalismo cioè la radio ha un elemento di grandissima forza che è la portabilità ok? cosa che adesso noi pensavamo noi che facciamo radio da una vita come dice pensavamo mamma mia adesso che sono arrivati i cellulari siamo finiti e invece era esattamente l'opposto i cellulari ci hanno salvato tu in realtà in questo momento hai ancora vado a memoria perché non sono sicurissimo che gli ultimi dati lo confermino ma viaggi sui 30 milioni di ascoltatori giorno per radio 30 milioni perché? perché vai in macchina a scuola vai in macchina al lavoro torni a casa accendi la radio è quella roba lì e addirittura se sei sul lavoro hai la pausa ti attacchi il tuo cellulare e ti scarichi appunto il podcast l'ascoltare eccetera quindi questo è stato un elemento foro io non ho fatto una lezione sulla storia della radio se no vi avrei annoiato su questi temi qua la radio è nata come strumento militare tutte le tecnologie che noi utilizziamo nascono come strumento per ammazzare gli altri ragazzi è inutile che ci prendiamo in giro la radio è stata un elemento importante durante la prima guerra mondiale perché a tirare giù i cavi nelle trincee che dovevano andare dal comando generale alla trincea sul carso sai quanti ne sono morti? perché dovevano tirare i cavi arrivavano i cecchini e gli sparavano e quando hanno inventato un'antenna che per mettere tramite il comando generale alla trincea hanno detto figata almeno non ci sparano addosso come il telefono poi certo vogliamo dire che Marconi aveva fatto sì va bene raccontiamoci anche queste belle balle però è una tecnologia sostanzialmente militare la comunicazione a distanza che giustamente poi noi abbiamo apprezzato per mettere insieme le comunità di persone ok il giornalismo il giornalismo radiofonico secondo me ha ancora un senso proprio perché ha bisogno di molta meno attrezzatura rispetto a quello che tu hai per una televisione è vero che tu puoi usare adesso una telecamera anche abbastanza piccola per fare questo va per un altro discorso enorme che non abbiamo tempo di fare ma sul ruolo dei freelance cioè tu in questo momento no non tutti ma la maggior parte degli inviati che hai in Ucraina sono freelance che a volte senza assicurazione è una cosa molto seria questa sono pagati in una miseria poi dopo è anche le grandi testate che mandano le persone però e lì quindi da una parte questo è molto più veloce facile da portarsi appresso due la voce ha secondo me un elemento di forza che le immagini non hanno ancora chiudo dicendovi questo secondo voi qual è il com'è che si chiamano Alberto tu che sai tutto come si chiamano i battiti che ci sono per le cose per i come si chiama eh per la musica i BTP eh BPM BPM ok secondo voi qual è il il BPM battiti per minuto più come dire naturale per noi 60 al minuto perché il battito del cuore qual è la prima cosa che noi sentiamo quando siamo nella pancia della mamma battito del cuore quindi l'audio la voce ha ancora una forza lo dico Nicola lo dico ancestrale l'ho detto l'ho detto che gli altri che altre forme di comunicazione non hanno ancora il bambino ascolta ci mette un po' a capire ad aprire gli occhietti quando nasce l'audio invece il contatto naturalmente ci mancherebbe però quello 12.05 ma ho sforato guardate a dirmelo esatto che professione stasso è buh è perché non è iniziato grazie Alberto un premio per Alberto grazie se ci sono altre domande bene se no vi lasciamo andare si ah ce n'è anche un'altra ecco e come fai adesso ti riprendi chiediamo aiuto in qualità di giovani intraprendenti radio giornalisti suggerimenti sulla durata di un servizio cioè io trovo la notizia la notizia funziona io non ho ancora un contatto a cui proporre la mia notizia devo scegliere la durata del mio lavoro con l'auspicio che qualcuno se la prenda notizia o podcast il servizio quindi un podcast decidiamo che sia un podcast allora c'è un vezzo nel senso che è una è una convenzione secondo me non ci sono prove scientifiche che la durata media dell'attenzione di una persona è intorno ai 60 secondi 70 secondi i servizi della RAI modello storico RAI radio durano 70 secondi venivano fatti quindi un minuto e 10 c'è un'altra convenzione che dice che l'ascolto prolungato che riesce a reggere una persona è 15 minuti io rimango più o meno di quell'idea lì 15 sì che se hai un servizio breve devi stare sul minuto se hai un servizio lungo podcast massimo 15 e poi vai a puntare vai a multipli che non è a caso la durata dei documentari di Radio 3 che non è a caso la durata anche delle indagini di ascolto le indagini di ascolto si fanno sui 15 minuti esatto perché è proprio una convenzione io consiglio dopo di che la prima cosa che ti rispondono chi produce podcast è non ce ne frega niente della durata perché se il prodotto è bello va bene anche 20 minuti però non saprei volevo farti una domanda sempre sulla voce sull'importanza della voce della cadenza e vabbè al di là del fatto che si debba lavorare a livello personale studiare non so fare corsi di dizione recitazione no sono contrario ai corsi di dizione no dizione io non è una cosa che avrei voluto fare no io sono contrario poi fallo ma per quanto riguarda le interviste quindi quando devi interfacciare una persona che magari non conosci tantissimo ci sono delle buone strategie per far sì che la conversazione fluisca bene anche in relazione a una possibile timidezza e così via allora sulla voce io l'unico consiglio che vi do è registrarvi ed ascoltarvi registrarvi ed ascoltarvi registrarvi ed ascoltarvi registrarvi ed ascoltarvi no corsi di dizione è bello che la tua voce sia lombardo marocchina non è bello che sia tutto impostato così cioè non è naturale ok sulla i trucchi allora dipende naturalmente il contesto io tendenzialmente quando devo fare un'intervista che so può essere un po' lunga comincio a registrare subito io registro subito accendo il registratore ah ti vedo bene ah interessante dai dai adesso però cominciamo l'intervista come vuoi che ti presenti ma preferisci che ti presenti così ti presenti con la ah ok d'accordo e poi comincia l'intervista perché di solito il tono della voce l'ambiente l'ambiente un po' diciamo così amichevole o perlomeno familiare aiuta un pochettino e poi la regola base del giornalismo è avere la seconda domanda cioè ti presenti con le tue domandine eccetera così poi arriva questo e ti risponde in un modo che tu non ti aspetti e devi avere la prontezza di dire ah ma allora dice così ma sei proprio sicuro e vai avanti ovviamente se devi fare un'intervista che ti serve per il famoso un minuto e mezzo di cui un minuto e dieci di cui parlavamo no niente di quello che ti ho detto è valido è buongiorno avrei bisogno di fare un'intervista con lei guardi è un minuto però e ti assicuro che nessuno sa quanto dura un minuto è proprio una regola matematica tendenzialmente sei tre minuti e mezzo e quattro più o meno è un po' lunga tre volte tanto quello che ci siamo detti ma veda un po' lei no? per esperienza confermi? è che poi in cui il programma poi faccio per l'intervista dovrebbe avere parteci e vedi prego ma guarda che ci cacciano fra un po' volevo sapere se secondo lei secondo te in un momento in cui come dicevamo un po' tutti magari con pochi soldi possono fare radio possono fare podcast ha ancora senso la differenza tra fare radio e fare radio giornalismo oppure chiunque si può dire radio giornalista cioè allora è vero che scusa è vero che il radio giornalista dovrebbe seguire il codice insomma la deontologia professionale però ho la sensazione che nel momento in cui c'è un allargamento così ampio quindi un po' tutti lo possono fare un po' tutti sfuggono al controllo appunto delle norme che dovrebbero seguire quindi chiunque si può improvvisare radio giornalista è difficile nel pratico fare la distinzione tra chi lo fa a livello professionale e chi lo fa inventandosi radio giornalista la mattina hai due ore di tempo per la risposta devo farla all'inizio anch'io però allora è un enorme problema che stiamo anche affrontando noi come ordine dei giornalisti perché è perfettamente vero è vero quello che tu dici cioè che oramai i giornalisti con la tesserina in tasca per intenderci sono probabilmente una minoranza rispetto a tutte le persone che fanno comunicazione che è una cosa leggermente diversa dall'informazione no? dopodiché la radio per come è fatto il mercato italiano ma a occhio e croce direi anche un po' in tutto il mondo la parte di intrattenimento musica show diciamo così in generale è preponderante e lì gli elementi come dire del giornalismo centrano fino a un certo punto ci vuole molta onestà ma non è che devi necessariamente seguire le regole deontologiche ed etiche del giornalismo ci stiamo domandando se i comunicatori appunto le persone che magari hanno un blog non necessariamente fanno la radio devono invece rispettare queste regole ti dico che a gennaio abbiamo inviato un questionario a migliaia di testate online ci hanno risposto abbastanza infatti a gennaio presenteremo i risultati di questo incontro dove uno di questi temi verrà affrontato due giorni fa abbiamo approvato come ordine dei giornalisti un cambiamento di un articolo della legge istitutiva dell'ordine proprio immaginando che almeno eccezionalmente in questo momento possa diventare giornalista praticante anche appunto persone che non hanno la tessera che non hanno diciamo così le possibilità di fare purché abbiano siano pagate abbiamo fissato un limite e purché se non non lavorano in una redazione perché l'altro grande tema è che nessuno lavora più in una redazione sono tutti freelance che lavorano da soli possano essere seguiti da un tutor deciso per l'ordine dei giornalisti e devono fare dei corsi di deontologia questo come giornalismo radiofonico dopodiché l'altro tema l'altro cioè l'altro dato era quello che ti avevo detto prima cioè noi come radio se vuoi la prossima volta che vieni magari possiamo darteli ne abbiamo ancora questi vademecum per i giornalisti se siete d'accordo li possiamo distribuire a voi una robina così poca roba sono 30 paginette quindi l'idea è proprio questa se devi fare informazione nel senso che abbiamo detto oggi devi seguire queste regole grazie grazie a voi grazie poi tutti i podcast me li date me li fate sentire però quelli che fate se no scusa che gusto c'è a fare va bene d'accordo volentieri volentieri ok allora stacco qua grazie a voi grazie a voi